DIMI QUANTO MI AMI, QUANTO? SI AMO COSÌ? TANTO COSÌ! Una donna con potevo vedere un po' i seni, un po' i cosce, sai, magari le calze a rete, dei tacchi... Ehi, stai bene? Sono tutti morti. Ma che diavolo è? Che c'è? Ha visto qualcosa? UN POLLO! C'è lì, l'autostoppista, perché l'è dentro? E' IL TASSIERISTA! L'AVETE CAPITO? UURIRETE TUTTI. AAAAAAAAHH! Oh Dio mio, Dio mio no! Me lo sono sognato tutta la notte, per una settimana a questo motivo, mi è entrato nelle cervella, sto diventando pazzo, per colpa vostra. Questo dedicato a Steve Vai, ti devi spaventare! Ti devi spaventare! Moriremo tutti! Oh povera bambina! Chi sta entrando nella porta adesso? Chi sta entrando nella porta? Eh? Non aprite quella porta! Io non ho nessuno in questo studio! La bene!